è sicuramente una gara da vedere, vediamo un Zanide Negri scatenatissimo da dietro altrettanto c'è lì, non va quasi a tirarsi, franco capitano non lascia nulla a caso davanti a Arminio guarda il buoni su, forse il primo è un pietro, 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 il secondo, il terzo è un pietro capitano, dentro al rombante, davanti a Gennini guarda il buoni su, il rossi è di libero Davide Negri, cosa è il problema? Davide Negri, cosa è il problema? Davide, non è una giornata in grande sport per il Super Davide intanto Erminio Forzi, davanti a Arminio Cali, il terzo è un pietro, il terzo è un pietro, il terzo è un pietro Capitano troppo, il terzo è un pietro intanto Erminio Forzi, Poglio Casalboni, Capitano Gennini Poglioni, attestate all'esternamento Casalboni non ci sta, continuo a rimanere vicinissimo, comunque Erminio Forzi, è un pietro, 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 è un pietro Capitano Cittini, è un pietro Capitano Cittano 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 Citt